Il dibattito è stato moderato da Fabrizio Cristalli, direttore generale della direzione generale di sicurezza, protezione civile e migrazione della regione Lombardia. L'incontro ha trattato lo studio e l'approfondimento della sicurezza urbana, con un'attenzione particolare al ruolo della polizia locale e al suo compito di salvaguardare la vita dei cittadini, in attesa di una legge nazionale sulla sicurezza urbana. Come sottolineato dal sindaco Franco Metta, c'è bisogno delle tre agenzie educative, scuola, famiglia e parrocchia, per una formazione alla consapevolezza dei vari rischi, a cui il cittadino può andare incontro, e di riformare la Costituzione emendando alcune leggi e normative che spesso risultano poco comprensibili e di difficile applicabilità. C'è bisogno di un cambiamento radicale e rivoluzionario, a cominciare dalla propria mentalità ed è proprio a tu convincimenti sociali.